Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nella mia nuova parte di Minecraft in Italiano Stiamo ancora appoccendo la roba dalla volta scorsa Nelle scorse parti abbiamo fatto una discreta esplorazione Adesso mi volevo craftare una spada di diamante Allora, adesso la spada di ferro me la butto qua E mi faccio una spada di diamante che è molto più potente E allora, faccio... cioè abbiamo del legno? No è vero, non abbiamo neanche del legno Materiali da costruzione ce ne dovrebbe essere qua Legno di abete Cioè wow, non abbiamo neanche del legno normale Bene, adesso significa che adesso me ne vado a prendere un po' E poi con altro diamante, uno dei tre, mi faccio anche l'ascia Dunque, e se possibile la rinomino perché voglio dare un nome particolare Allora, mi faccio la spada Uno, due E l'ascia Perfetto L'ascia di ferro la mettiamo qua Proviamo a rinominare la spada Io la spada la chiamo No, la spada non so come chiamarlo Aspettate Vediamo quante lettere ci stanno Ah no, ce ne stanno un bel po' Ecco, mi pare un nome originale E lascia La... come possiamo rinominarla? No, lasciala, lasciamo così Lascia La Lasciamo O meglio, lascia La Lascio Lol Aspettate Qua c'è l'ultimo blocco d'oro che si sta cuocendo Bene E qua Deve ancora cuocersi parecchia roba Allora, sapete cosa faccio? Io Aspettate Io Ah si, c'è ancora la redstone da depositare Dunque Andiamo sui minerali Metto qua Metto qua Metto qua E E qua Perfetto Vado ad abbattere un po' di legna No, no, no Ragazzi abbiamo parecchia cosa Abbiamo delle torce da farci Voglio fare parecchie torce Allora E devo anche Prendermi qualcosa da mangiare Che so Pescare qualcosa Eccetera Eeeh Adesso siccome è notte Volevo andare a vedere Siccome è da un po' che non ci vado Volevo andare a vedere Merda Eh capita Devo mettere le altre scale di sotto Andiamo a vedere com'è Com'è il nostro balcone Eeeh Vaccavo Qui Qui ci sono delle foglie Tiriamo via Ecco il nostro balcone La sera La sera Beh adesso oggi Cioè adesso che registro questa parte È pomeriggio Però nel Nel gioco è sera La sera Star qua seduti Eeeh Dovrei mettere anche un po' di Di sdraio Guardate Vabbè qua Comunque Faremo qualcos'altro Quando Quando avremo tempo Ci mangiamo una pagnotta Ah no Aspettate Prima Prima vado a dormire Ah mi voglio Fare anche una specie di nuova camera da letto Camera da letto è per dire Voglio mettere in un'altra posizione il letto Chissà com'è che lo potremmo mettere Lo potremmo mettere Così Allora Qua il tavolo da lavoro non ci va bene Ah ah Si è impilato Ok Il letto Per il momento Ma Non so Come volete che lo facciamo E se E se lo facessimo Aspettate Mi sta venendo una Una pazza idea No Però prima ci serve tanta legna Si si Quindi andiamo a prenderci tanta legna Ah qui c'è il nostro grano Ah la legna Adesso ragazzi devo prendermi veramente parecchia Legna perché Oltre a Oltre alle torce Mi devo fare anche Cioè devo averne comunque sempre una scorta Anche quando vado in esplorazione Quando Quando costruisco qualcosa In modo da avere Ad esempio se io mi devo craftare Delle cose con Ad esempio con gli stick O semplicemente usare la legna come blocco Devo averla Ok adesso mi pare che ne abbiamo Perfetto E ci siamo fatti La nostra scorta di torce Poi questo arboscello Lo mettiamo qua Ah una mela Sono diversi arboscelli Allora vi devo dire una cosa Volevo andare a vedere Che Volevo andare a vedere Ah si con Con il grano Io non mi ricordo Se le mucche Le avevo fatte riprodurre Prima o dopo Di backupare il mondo Per sbaglio Aspettate che ripianto queste Una Due tre quattro Cinque sei Sette otto Nove dieci Undici Andiamo a vedere la La Dal waypoint verde Sì scusate Sto andando in una direzione Un po' diversa Qua abbiamo Sto sentendo uno zombie Comunque qua abbiamo Un albero Messo in malo modo Bene andiamo a vedere Perché voglio far riprodurre Le mucche Per averle a loro pelle Non mi ricordo Come ho già detto Se Se le mucche Le avevo Ah le ninfe Mi farò un ponte di ninfe Qua Eh si si Ah ragazzi Ne abbiamo tante Di robe da fare Noi Ah no Si si Mi sa che le avevo Fatte riprodurre Dopo aver backupato Il mondo Credo No comunque Adesso ce le abbiamo L'importante è quello Mi faccio Con il pietrisco Ok Bene Venite da me Ecco 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 Adesso cambio Adesso guardate come vengono Allora queste due Riproducetevi Voi due Riproducetevi E voi Due Voi due Vi siete già riprodotte E adesso Volevo vedere se Ammazzandovi Si Ho un po' di pelle La quantità è variavile Adesso ne abbiamo Quattro E qui ce ne sono Tre E qui ce ne sono tre Me ne ammazzo Ok Si Però adesso va bene così Abbiamo cinque Cinque pelle Ma Cinque pelli Ma Ovviamente non sono sufficienti Devo costruirmi un ponticello Ma fa lo stesso Aspettate che metto Una ninfea Facciamo Parkour Sulle ninfee Adesso Volevo fare una cosa Che Io penso Di aver trascurato Abbastanza Se ce la facciamo A farla in questa parte Voglio costruire Un ponte Aspettate che qua Prendo Eh Come mai Due Eh Voglio costruire Un ponte Merda Un ponte Con Il legno Quello di Betul Allora Mi prendo subito Questo legno qua Vado a Prenami il legno Di Betul Voglio costruirmi Un ponte Per quell'isolotto Lì Dove era I materiali Da costruzione Aspettate Cibo Tutto qua Materiali Da costruzione Asse in legno Di Betul Ne abbiamo pochissime Ne abbiamo pochissime Ne abbiamo soltanto Sei E qua Invece Ecco Ci possiamo fare Due pagnotte Una di queste Me ne mangio Allora Uno Due Ok Tre pagnotte Adesso abbiamo Andiamo fuori Ad abbattere Altre Betulle Perché ci serve Il legno E adesso Volevo Aspetta Ah si Mi devo rifare Comunque L'orologio Guardate Già che ci sono Me lo rifaccio adesso Perché Così poi dopo Non me lo dimentico Mi servono Quattro Lingotti D'oro Uno Due Tre Quattro E una Una redstone Forse era L'incontrario No sapete che Secondo me Era proprio L'incontrario No No è giusto È giusto È abbastanza comodo L'orologio Vabbè che se Noi abbiamo Una raise minima Pensiamo Sottoterra Noi possiamo Vedere Quando è notte Però l'orologio Ci illustra In modo più Dettagliato Il tempo Un erboscello Di Betulle No è Allora È 62 Ma chissà Ma sì dai Credo che ci possano No Sì Ci bastano Allora Me la voglio fare Da qua A A qua Perfetto Poi lo definiremo Meglio Comunque ragazzi Continuo nella prossima parte Questa è finita Aspeto alla prossima Ciao Ciao